ok ragazzi adesso insieme ad Alex proviamo a fare un giro un po' lanciato per cercare di metterci ancora più in situazione partiti eh parte bene vai Alex se devi superare vai cerchiamo di improvvisare ragazzi per offrirvi il meglio per lo studio delle traiettorie e dell'anticipo quindi Alex vedete ho dovuto alzare il piede perché Alex giustamente cerca di disturbarmi vediamo se posso anticipare vediamo in scia vediamo se qua possiamo cercare di recuperare e come vedete il mio comportamento è basato sull'anticipo devo frenare prima qua sono uscito vabbè e vediamo se le mie teorie sono giuste quindi allungo e cerchiamo di recuperare comunque Alex va forte attenzione non è che uno eccolo è qui vedete la scelta anticipo e comunque Alex non ha avuto una buona ripartenza altrimenti mi avrebbe sicuramente incrociato qui lascio andare adesso questa in discesa bisogna stare stretti qui e poi tagliare verso il cordolo qui giù e si anticipa la frenata prima dei cento metri e si viene a secchettare a metà la curva anche qui forza Alex un altro giro sono costretto ad aspettarlo perché Alex non segue i miei corsi quindi qui io per percorrere meno strada vengo a tagliare anticipo pensando che dietro c'è un avversario e cerco di mettermi in mezzo ma comunque fa uno staccatone pazzesco quindi vengo a stringere proviamo a incrociarlo partito molto bene io ero con una marcia troppo alta e i regimi del mio motore erano troppo bassi ma bellissima mossa comunque di Alex che ha seguito la manovra alla perfezione la proviamo all'interno occhio perché noi qua dobbiamo stringere 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 per lasciare comunque un po di spazio in modo tale che Alex sportivamente possa eventualmente rispondere come vedete all'interno ho dovuto anticipare allungare la frenata vediamo qui qui solitamente non si passa e Alex si trova impiccato dietro perché perché l'abbiamo interpretata bene come vedete gioco sempre di anticipo sia sulla frenata e sia in attesa di quello che può succedere con il mio avversario io mi fermerai qui perché credo che abbiamo fatto vedere già parecchie cose molto interessanti l'attacco il contrattacco l'incrocio e lo sfruttamento della traiettoria l'anticipo fanno sì ragazzi che si può veramente migliorare oltre che sul tempo anche in pista e soprattutto se il tutto è corredato da un comportamento sportivo rende le gare veramente molto belle e interessanti da vivere io ringrazio tantissimo Alex per aver collaborato con me questa sera avermi dato una mano quindi grazie Alex vi ringrazio a tutti ciao Fabri ciao a tutti i ragazzi quindi vi ringraziamo per averci seguito noi ci vediamo al prossimo video da Fabri e Alex è tutto ciao